In occasione delle celebrazioni per il bicentenario della morte di Giovanni Paesiello, il Conservatorio di San Pietro a Maiella di Napoli omaggia il compositore con un capolavoro del suo maestro Francesco Durante il Vespro Breve, a quattro voci con violini e con la giunta di sinfonia, Ave Maria e Salve Regina in prima esecuzione moderna. Maggio sentì nell'aria Napoli Capitale. L'appuntamento nell'ambito del Maggio della Musica 2016 è per venerdì 6 maggio alle ore 19 nella Basilica di San Domenico Maggiore. Orchestra, solisti e coro di San Pietro a Maiella, direttore Elsa Evangelista. Entriamo appunto nel vivo delle manifestazioni dedicate a Giovanni Paesiello in occasione del bicentenario della sua scomparsa. Venerdì appunto nella chiesa di San Domenico Maggiore verrà eseguito in prima esecuzione moderna il Vespro Breve. di Durante, una pagina meravigliosa che si trova nella nostra biblioteca e che ritorna alla luce grazie alla revisione di un altro ex allievo del Conservatorio, Dario Ascoli. La pagina è stata eseguita dal coro e dall'orchestra del Conservatorio diretti da me, perché come ben sapete io sono alla direzione di questo conservatorio da 5 anni e in questi 5 anni ho lasciato un po' quella che era la mia attività concertistica, perché io ritengo che un direttore di un conservatorio si debba dedicare a 360 gradi su questo veramente meraviglioso istituto, che ha bisogno di tante tante attenzioni. Infatti per i primi 5 anni il mio lavoro è stato quello di aprire le porte alla città, del Conservatorio, collaborare con le maggiori istituzioni della città, rivalutare il patrimonio della biblioteca, e quindi non mi sono più occupata in effetti della mia attività artistica, ma oggi in occasione appunto di questo importante appuntamento con le celebrazioni di Paesiello ho voluto dare il mio contributo, anche perché Paesiello è stato il primo direttore di questo conservatorio, è stato il direttore che da San Sebastiano ha curato il trasporto di tutte le partiture qui al San Pietro a Maiella e fu proprio Paesiello a chiedere all'allora bibliotecario di mettere in partitura questo vespro di Durante, perché di questo vespro in biblioteca abbiamo solo le parti d'orchestra. Il tutto è stato messo in partitura dal divisore da De Ascoli, quindi un appuntamento molto molto importante.